Buonasera, grazie di essere intervenuti, io mi chiamo Carlo Grande, faccio il giornalista alla stampa, mi capita spesso di scrivere di montagna perché è un luogo che sono terre che amo molto e anche dal punto di vista, come dire, spendiamo il termine visto che è una mostra anche legata molto all'arte e anche dal punto di vista letterario, specialmente l'Alta Valle di Susa che è la protagonista di questa mostra. Dico solo due parole per rompere il ghiaccio, per presentarvi chi interviene, cercheremo poi di lasciare un pochino di spazio naturalmente anche al pubblico, chi ha delle domande, a chi vuole intervenire. Anche perché parlare di montagna significa molte cose, parafrasando un po' un bel titolo di un racconto di Carver, di che cosa si parla, lui parlava di amore, parlava di emozioni, ma anche quello è un tema che non è alieno, è dal nostro. Di che cosa parliamo quando parliamo di montagna? Ci sono tanti cliché, ci sono tanti modi di affrontarla, le foto lo testimoniano, non sono immagini sempre acquietanti, anzi spesso sono urticanti. Il tentativo direi molto nobile anche e originale è quello di chiedere aiuto all'arte, quindi a una disciplina artistica, la fotografia, per cercare di avere uno sguardo più profondo, uno sguardo anche destabilizzante, appunto perché i cliché sono molti. Quando parliamo di montagna qualcuno magari immagina una parte di frequentatori importante che è legata alle piccozze, ai ramponi, alle imprese, alle performance e sicuramente quello non è solo quello. Altri pensano magari ad Aidi, no? In mezzo alle caprette, ai pascoli, ai ridenti e a tutta una serie di cartoline e oleografie, non è nemmeno quello, anche se per qualche breve istante si potrebbe e ci si può anche augurare di avere, come dire, la benedizione di questo momento idillico. La montagna è soprattutto, però appunto lo diranno e lo diremmo insieme, ognuno dal suo punto di vista, e soprattutto le persone che la abitano, è un territorio che, il bel titolo di questa mostra, Sospensioni, immagina quasi, mi è venuta questa similitudine, ditemi se può essere più o meno azzeccata, quasi nell'occhio del ciclone, di un ciclone, all'interno di questa società liquida, di questa giostra che gira, gira molto, gira molto più veloce in pianura, ma che vive quindi una sorta di calma apparente, del tutto provvisoria naturalmente. A volte sembra che la montagna non si muova. Invece ci sono realtà, ci sono realtà che vanno oltre, ad esempio, quello che è un altro cliché, per quanto possa essere importante anche dal punto di vista economico, che è quello di piano inclinato, no? Per chi va con gli sci, il mountain bike, con tutte le altre discipline sportive. E' anche questo la montagna, ma non è solo questo. Vedete anche nelle foto, ci sono accostamenti di, ad esempio, dei randonneurs che sono vicini a motociclisti, sono vicini a gente che va in bicicletta, ci sono tante cose. Soprattutto bisogna cercare di essere pragmatici. Credo che questo sia l'obiettivo della mostra. Dietro alle fotografie ci sono delle realtà, ci sono delle persone in carne e ossa che vivono, che cercano di vivere lì. Chiudo facendovi solo un piccolo esempio che ho vissuto in prima persona. Tanti anni fa, quando c'era ancora Walter Bonatti, scusate se parlo di me, ma è la mia esperienza, mi avevano premiato per un romanzo ed eravamo a Ulx e c'erano tante scolaresche e noi parlavamo, parlavamo, per questo mi tacerò fra breve, e a un certo punto si alzano tutti questi ragazzi e ragazze e noi li abbiamo guardati e l'insegnante dice, beh, se non fate la premiazione e non chiudete la cosa, noi comunque dobbiamo andare, perché l'autobus che ci riporta passa tra poco e il prossimo lo dobbiamo aspettare a fine della giornata. Ecco, un esempio migliore di che cos'è la montagna. Io francamente in quel momento non potevo averlo. Quindi adesso cedo la parola a Luca Remmert che, insomma, in quanto anche spirito pragmatico immagino che ne abbia molto, perché anche la sua formazione agraria e la vita che fa nelle terre alte lo testimonia. Prego. Grazie. Intanto due considerazioni preliminari. Quando in Compagnia di San Paolo abbiamo cominciato a pensare e abbiamo deciso poi di occuparci in modo strutturato di montagna, Compagnia di San Paolo si occupava comunque di montagna e quindi con Massimo, con Sarare Porati, con tutti i nostri collaboratori abbiamo deciso di provare a costruire questo programma Torino e le Alpi. Non sapevamo mica bene dove saremmo andati a finire. Era una bella scommessa, una scommessa importante. Oggi credo che raccogliamo alcuni risultati. Il primo risultato che non c'entra niente con Torino e le Alpi, il fatto che siamo in questo luogo che, oltretutto, Compagnia di San Paolo ha contribuito a rendere quello che è ed è diventato un luogo accogliente, un luogo che non è solo un auditorio, ma un luogo che serve per questa città e per ospitare momenti come questo. Quindi questa è la prima soddisfazione. La seconda soddisfazione è il fatto che in un pomeriggio, prima del derby, alle 5 del pomeriggio e tutto, ci abbiamo una bella sala piena. La terza soddisfazione, la più grossa, è che, sentite, sentite, vedo un sacco di sindaci. Allora, il fatto che siamo riusciti con un evento culturale a prenderci i nostri sindaci della montagna e portarli qua così numerosi stasera, questo è un altro risultato, è il risultato fondamentalmente di aver raggiunto uno di quegli obiettivi che era proprio di connettere i due territori, di connettere la montagna con la città. Allora, io non voglio togliere niente ai nostri illuminati sindaci, ma il fatto di avervi qui e di avervi qui così numerosi è la dimostrazione del fatto che un po' questo contatto siamo riusciti a migliorarlo. La mostra è bellissima, andate a vedervela, brava ai tre Laura Cantarella, Antonio Lagrotta e Simone Perolari, bravissime, le fotografie sono secondo me bellissime. È bella la mostra, sono bravi i fotografi e la mostra ha anche un altro grosso, una grossa valenza secondo me, che quella mostra sarà itinerante perché poi girerà nei vostri territori e questo è di nuovo un altro collegamento con quello che dicevamo prima. La nostra valle e soprattutto la nostra alta valle non spetta a me, poi c'è chi lo dirà meglio di me, ma anch'io ci sono molto affezionato e ci ho passato tanto del mio tempo, ma io credo che sia uno straordinario esempio di montagna in quanto è comunque uno straordinario esempio di un territorio che è già molto fatto di urbano e montano messo insieme, perché la vicinanza della città comunque è stata quella, perché un certo disegno di un certo modello di turismo ci ha portato comunque a creare una montagna, a disegnare anche un paesaggio, ci parlavamo alla presentazione del suo libro, un paesaggio che è un paesaggio abbastanza particolare da questo punto di vista. Un paesaggio che però abbiamo la pretesa, il tentativo credo di valorizzare al meglio per quello che è, ma anche un paesaggio che deve riuscire a cambiare, un luogo che deve riuscire a cambiare, un luogo che ha delle grandissime potenzialità. Allora per riuscire a tarare meglio quelle che poi sono tutte le nostre azioni, noi col nostro modesto programma Torino e le Alpi, sindaci soprattutto, ma tutti quelli che in un modo o nell'altro girano intorno alla montagna, dobbiamo riuscire per cambiarlo, per potenziarne le cose più belle e per aggiungerci quelle che mancano, dobbiamo essere capaci di leggerlo. Ecco allora questo foto, questa mostra credo che ci dia uno spaccato, una chiave di volta, una chiave di lettura di un territorio che è un territorio che sembra semplice, perché la montagna sembra che sia un territorio semplice, invece è un territorio particolarmente complicato. Superando un po' credo quella logica di contrapposizione fra le varie anime che possono convivere in montagna per arrivare proprio invece sempre di più ad una logica di convivenza. Pensate quante cose abbiamo ancora da fare e possiamo pensare che vengano fatte in questa logica proprio sempre di ulteriore avvicinamento, ma in questa logica di valorizzazione di quello che abbiamo. Io dico sempre che non bisogna farsi delle grandi invenzioni, il problema di rendere appetibile il nostro territorio molto spesso, in più siamo anche fortunati di avere un bel territorio, molto spesso non è nel generare grandi infrastrutture o che cosa. L'altro giorno eravamo alla presentazione di questo vento e la cicloturistica da Venezia a Torino. Ecco lì è un altro progetto che è la generazione, la valorizzazione di infrastrutture che di fatto ci sono, la generazione di infrastrutture leggere. Ecco penso che questo possa essere uno degli strumenti della montagna. Quante cose ci sono ancora da fare, ho collegato il discorso al cicloturismo, pensiamo, ne abbiamo parlato tante volte, quanta potenzialità ci sia nelle nostre montagne per allungare l'offerta turistica, per fare una montagna che stia in piedi 365 giorni. Quindi grazie, grazie a tutti voi che ci siete, grazie ai fotografi che hanno reso possibile questa bella cosa e grazie perché ci date con questo un ulteriore stimolo ad andare avanti, ad aver voglia di andare avanti perché la base di quel programma lì, che sta poi anche nel fatto che ci mettiamo anche delle risorse finanziarie, stava proprio nel riuscire a fare questa connessione. Se non ci fossimo riusciti probabilmente avremmo detto, vabbè abbiamo sbagliato, solo i cretini non sbagliano e quindi facciamo un passo indietro. Grazie davvero, per chi non l'ha vista godetevela la mostra e poi sono molto contento veramente che la mostra poi vada su per le nostre montagne. Grazie. Bene, grazie a Luca Remmert, presidente della Compagnia di San Paolo e grazie di aver citato anche i fotografi naturalmente, Laura Cantarella, Antonio Lagrotta e Simone Perola Perollari. La Cipra e Federica Corrado, la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, sciogliamo l'acronimo perché il termine Alpi va anche speso. Adesso ha la parola e ci racconta come è stata organizzata questa... Io sono stato maleducato perché non ho citato il risultato di questa grande collaborazione, ma volevo ringraziare tutti così non ho ringraziato voi. No, no, assolutamente, anzi, allora colgo questa occasione per dire che innanzitutto la mostra è davvero stato il risultato di un lavoro di squadra, di un lavoro di gruppo che ci ha visto davvero tutti molti uniti, ci siamo confrontati e quindi questo bel risultato, ringrazio di questo riconoscimento, sappiate che appartiene davvero a tutto il gruppo di lavoro che Cipra Italia ha avuto l'onore davvero di coordinare. Come nasce questa mostra? Questa mostra nasce dal territorio, questa è una cosa che io vorrei mettere in evidenza, ecco perché abbiamo pensato che questa mostra deve tornare nel territorio. Sono due anni che Cipra Italia è presente in Valle di Susa, nell'Alta Valle sostanzialmente, con un laboratorio che ha sede a Ulx. Anche qui ringrazio la compagnia perché un po' ci ha creduto in questa proposta che noi abbiamo fatto, di sostenerci in questa azione dentro il territorio di costruzione, in qualche modo di un modello di sperimentazione alternativo di partecipazione per progetti di sviluppo locale. Quindi diciamo da due anni noi siamo in Valle, abbiamo fatto due laboratori, uno nel 2014 e uno nel 2015. Con questo secondo laboratorio siamo arrivati appunto anche a costruire una mostra. Questo perché abbiamo pensato che dopo aver fatto un lungo percorso di conoscenza, di scambio reciproco di idee, di visioni, fosse giunto il momento importante di rendere visibile ciò che sta cambiando in questo territorio. Perché davvero le foto che voi vedete sono degli scatti momentanei, ma sono degli scatti che stanno in tensione dentro delle dinamiche territoriali incredibilmente in trasformazione. La montagna è in trasformazione, la montagna si sta sperimentando, sta cercando di andare oltre a dei modelli di sviluppo ormai entrati in crisi, questo lo sappiamo, questo è un discorso che riguarda la montagna. E davvero in Alta Valle di Susa c'è una capacità di riuscire a leggere in modo diverso il proprio territorio, di riuscire a sperimentare modelli e modi, modalità di messa in valore delle proprie risorse che non appartengono al passato, che sono nuovi, che sono innovativi. Allora ci è sembrato importante che tutto questo contenuto che è emerso da queste due edizioni del laboratorio fosse reso visibile. Fosse reso visibile perché è chiaro che la percezione di tutto questo ha un ruolo importante. Purtroppo la montagna, devo dire, la carta stampata nei giornali ancora sta troppo dentro degli stereotipi. e quindi ci sembrava, ma questo vale anche un po' per la ricerca, all'interno della ricerca alpina sono pochi gli anni in cui davvero ci stiamo ripensando nelle modalità di studio, negli strumenti con cui affrontiamo l'analisi territoriale. E quindi questa mostra ha anche questa valenza importante, c'è questa valenza di in qualche modo riuscire a scardinare queste immagini stereotipate per riuscire ad arrivare appunto a costruire altre immagini. E sono ovviamente i protagonisti che le devono costruire. Questa mostra deve essere letta dal territorio come un mezzo, uno strumento. Sarà poi il territorio ovviamente, la sua comunità, i suoi imprenditori, la sua gente, le sue istituzioni che faranno delle scelte rispetto alle tante possibilità o le criticità che sono state messe in mostra. Faranno delle selezioni rispetto alle quali costruiranno poi quei modelli di sviluppo che riterranno adeguati per la loro comunità, adeguati e sostenibili. Il fatto che ci sia un forte legame col territorio e che questa mostra appunto torni nel territorio non è soltanto legato al fatto che poi ci sarà un circuito dentro la valle che partirà fino al 30 gennaio, la mostra sarà in esposizione qui, dopodiché partirà e l'8 febbraio inaugureremo a Sestriere. Quindi c'è qui il sindaco Walter Marine, saremo con un evento di questo tipo, un incontro, un altro dibattito a Sestriere. Così sarà anche per le altre tappe, Bardonecchia, Venaus, Ulx. Ecco, e oltre a tutto ciò l'idea è che l'anno prossimo anche il laboratorio in realtà diventi un po' più itinerante. Quindi avendo sempre come sede principale Ulx, ma l'idea è un po' quella anche che arrivi appunto in altre parti della valle. Direi che con questo vi ho raccontato un po' del perché siamo arrivati qui fino a questo punto. Grazie. Sì, poi faremo un altro giro e così si può dialogare anche meglio. Un artefice di questa mostra è anche Antonio De Rossi che insegna al Politecnico e lavora molto sul paesaggio naturalmente. Quindi ci può raccontare qualcosa di quello che lui ha vissuto e che vive quotidianamente. Buonasera. Credo che una delle questioni, già molte ragioni del perché di questa mostra, di questo lavoro, lei ha ricordata adesso Federica Corrado. Però credo che valga la pena di ricordare come io sono della Valle di Susa da una ventina d'anni per ricerca universitaria e via dicendo, ma credo che sia importante sottolineare come davvero oggi il territorio della Valle di Susa, non mi riferisco tanto solo alle questioni per cui oggi la Valle di Susa trova sovente spazio sui giornali, sia davvero un territorio, io credo, emblematico della nostra contemporaneità. È una montagna, nel testo che accompagna la mostra, si ricorda un testo di Massimo Mila degli anni 50, che è un bellissimo scritto che aveva fatto per la rivista del Turin, parlava già di questa Valle di Susa come un intreccio, un forte meticciato tra la città e la montagna. E dopo 60 anni, dalle parole di Massimo Mila, indubbiamente questo percorso, che è un percorso specifico della Valle di Susa, Massimo Mila parlava di questa montagna come della montagna di casa, dove le relazioni con la città, il tema delle infrastrutture, l'industrializzazione, il turismo invernale hanno ovviamente modificato, e non da ieri, ormai è un percorso che dura da due secoli e più di due secoli, quello della continua trasformazione, e questo la rende, ci sono tante montagne, non esiste solo una montagna, indubbiamente la montagna della Valle di Susa è in primo luogo questo intreccio, questo meticciato tra modalità urbane di percezione, di trasformazione del territorio, e dall'altro lato appunto anche la montagna profonda interna, eccetera. E da questo punto di vista ci sembra che il territorio della Valle di Susa, e non a caso la Cipra ne ha fatto un laboratorio di riflessione sulla montagna contemporanea, sia davvero emblematico perché pone tutta una serie di questioni oggi assolutamente nodali di fronte a quello che già Federica poco fa diceva, cioè che la montagna è sicuramente una fase di profonda trasformazione e indubbiamente in Valle di Susa sono in corso dei fenomeni, non credo ancora del tutto evidenti a tutti, io credo molto importanti, che mischiano fenomeni anche molto differenti tra di loro, da quelli della valorizzazione, ovviamente fatta dalle popolazioni locali, da temi di valorizzazione, come nel caso del piano di valorizzazione appunto della Valle di Susa, tesori d'arte, del proprio patrimonio o meno, a iniziative imprenditoriali di segno diverso, fino alla continuazione, al ripensamento di quello che può essere la modalità turistica diciamo più tradizionale, quella che nel corso del Novecento ha avuto ovviamente un importante e rilevante sviluppo all'interno della Valle che tocca i comuni ovviamente dell'Alta Valle di Susa in modo molto forte. allora tutti questi differenti pezzi, perché sono tante realtà differenti che convivono all'interno di questo territorio, hanno prodotto anche un territorio che è molto sfaccettato, che è una sorta di puzzle, di caleidoscopio, di situazioni anche molto differenti e che credo che le fotografie di Laura Cantarella, Antonio Lagrotta e Simone Perolari mettono in profonda l'evidenza. Allora il tema qui non era tanto, oggi va molto di moda usare per le questioni del paesaggio se i paesaggi sono belli o brutti e fare dei ragionamenti anche molto manichei da questo punto di vista. C'è una fotografia, un'immagine della montagna che segue anche molto gli stereotipi, gli cliché come diceva già prima Carlo Grande e quindi una sorta di ripetizione all'infinito di certe immagini della montagna di cui forse non sappiamo nemmeno più l'origine, ma che continuiamo anche un po' stancamente da un certo punto di vista di ripetere. Poi ci possono essere delle modalità da inchiesta, anche in qualche modo di accusa sulle trasformazioni della montagna in Vedicennio. Ecco, il tentativo che noi in qualche modo abbiamo provato a fare era quello invece di cercare di provare a guardare con occhi diversi se si riusciva anche altri aspetti e altre questioni della Valle di Susa. E devo dire che ne salta fuori un territorio dove, e qui il titolo sospensione, è la prima sospensione ovviamente, cioè una sospensione di giudizio, perché ripeto qui il tema non è dire cosa è bello o cosa è brutto, perché poco ci interessa, ma è proprio invece di cercare di mettere in evidenza quelle che sono le trasformazioni, alcune traiettorie, alcuni percorsi e cercare di capire dove in qualche modo stanno andando. E quello che appunto emerge è un paesaggio, è un territorio, devo dire, di un'articolazione, di una complessità credo molto più forte di quella che noi in qualche modo immaginiamo. La Valle di Susa è, l'Alta Valle di Susa, un microcosmo che contiene aspetti, fenomeni, trasformazioni in atto in questo momento che sono davvero molto complesse, che in qualche modo non credo che vengano colte sempre in quella che è la percezione diffusa comune di questo territorio. Allora la mostra, ci sarebbe molto da dire, ma ovviamente mi limito, cerca di mettere in evidenza, soprattutto a partire da dei punti di vista, da delle situazioni, è stata una scelta anche molto consapevole quella di non andare a fotografare nella tradizionale estate o nel tradizionale inverno questo territorio, ma di coglierlo anche nei momenti come possono essere periodi di mezza stagione o certe anche situazioni, eccetera, dove quello che salta fuori non è tanto appunto una, io credo, immagine di, come dire, bloccata o che fa vedere certi fenomeni di urbanizzazione o cose di certo genere, ma lascia appunto un tema davvero di sospensione, cioè di un territorio che fa intravedere, io credo, un percorso lungo appunto due secoli nel corso della modernità di trasformazione, di dialettica tra popolazioni locali, tra città, tra interno e esterno e via dicendo, ma soprattutto fa intravedere che questo territorio è davvero un possibile laboratorio per pensare progettualmente la montagna di domani, e lo è, perché è la montagna più difficile paradossalmente, nel senso che se un tempo erano altri luoghi, come dire, marginali, e vi dicendo, ma che oggi stanno vivendo delle traiettorie, io credo, anche di ripensamento, di valorizzazione, di sviluppo che muovono da quella marginalità per farla diventare oggi un punto di forza, quella che invece è stata la montagna delle trasformazioni, come dire, della modernità è oggi una delle montagne che ovviamente ha di fronte le sfide, come dire, da un lato più difficili, ma anche da un certo punto di vista molto interessanti. E quindi le fotografie, un lavoro di ricerca fotografico che è stato fatto nel corso di questi mesi, io credo che abbia appunto proprio un po' questa valenza. Non è un tema appunto di giudizio, non è un tema di, banalmente di documentazione, ma è quello di provare a mettere in vista, a far emergere in movimento una serie di immagini che secondo me sono delle immagini di potenzialità di questo territorio e che indubbiamente pongono delle grandi domande, ma non le pongono solamente al territorio dell'Alta Valle di Susa. Le pongono, come dire, a tutto il tema della progettazione del territorio, alla gestione del territorio, alle trasformazioni del territorio, in modo, io credo, davvero molto forte e molto complesso. Perché la Valle di Susa è sicuramente, da questo punto di vista, uno dei territori più emblematici della contemporaneità ed è uno dei luoghi dove, dal punto di vista del progetto, io credo, ci siano molte possibilità di sviluppo rispetto a quello che può essere un domani della montagna. Grazie, professor De Rossi. Allora, chi meglio dei sindaci, insomma, che vivono a contatto sul territorio e a contatto con le persone di Sauce, di Cesana e di Ulx, può rispondere anche a queste domande. Allora, Maurizio Beria d'Argentina, sindaco di Sauce di Cesana. Grazie di questa possibilità di portare ad un'assemblea così numerosa, come dire, la nostra realtà. Devo dire che ringrazio la Compagnia di San Paolo e il Cipra per questa sorta di accanimento terapeutico positivo che hanno nei nostri confronti. Ne abbiamo estremamente bisogno e li ringrazio. Nel mio discorso di insediamento, poco più di un anno fa, alla guida di questo piccolo comune, parliamo di 250 abitanti, piccolo di abitanti ma grande di metri quadri, sono 80 km quadrati. Ho detto tre cose. Ho parlato della crescita economica, del rispetto del creato, ho usato il termine creato e non ambiente, rispetto delle regole. Tralasciamo l'ultimo punto, rispetto delle regole, che è una questione che interessa soprattutto i miei concittadini. Ma sui primi due punti, crescita economica e rispetto dell'ambiente, nasce sostanzialmente l'aspetto critico che viene evidenziato da questa mostra, che io ho solo visto in maniera molto rapida, per cui non ho ancora metabolizzato. Dovete pensare che il mio comune, con altri cinque comuni, costituisce un'unione montana di 4.000 residenti o poco più, che dà lavoro a 6.000 persone e sul sistema neve si basa la sussistenza economica della nostra realtà, del nostro territorio. È evidente che il sistema neve ha qualche problema e sicuramente, come dire, anche dalle fotografie e dalle immagini prendiamo degli stimoli per cercare di correggere questa direzione. Ma non possiamo prescindere dal sistema neve. Abbiamo, anzi, dobbiamo puntare a portare ad un livello di ancora maggiore efficienza al sistema per posizionarci su un mercato internazionale ancora in un gradino ancora più alto. Abbiamo però scoperto che il sistema neve non è sufficiente e dobbiamo quindi puntare, visto che di turismo viviamo, ad allungare la nostra stagione. Il Presidente Remmert ha parlato di biciclette e di vento, Torino-Venezia in bicicletta, ma noi vorremmo partire da Grenoble in biciclette e andare a Venezia e fare in modo che tutto questo flusso di biciclette passino e si fermino sui nostri colli, che sono i colli mitici del ciclismo epico, che possono essere frequentati da biciclette da strada, da mountain bike, da biciclette con pedalata assistita. Quindi noi dobbiamo andare, come dire, a modificare questa forma di, per certi aspetti, di immobilismo, in quanto ci bastava la neve, per aggredire nuovi mercati, nuova utenza, sempre nel rispetto del creato, ma con un occhio verso una crescita economica. Io non vorrei dilungarmi troppo, casomai se emergeranno delle domande, delle questioni, riprenderò volentieri la parola. Ho visto in sala il sindaco di Ostana, che ha fatto, e io sono veramente felice di poterlo dire, ha fatto del suo piccolo paese, simile al mio, in una zona molto diversa, che non gode dei benefici del sistema neve o non così tanto, sta facendo un'operazione rivoluzionaria. Allora, questa operazione di cambiamento, dell'uscire dalla logica del luma sempre fai parei, dobbiamo assolutamente metterla come nostro faro. Noi abbiamo delle potenzialità enormi, anche in Alta Valsusa, io posso parlare solo di una parte, dall'altra valsusa e non ne sono neppure degno. Ma abbiamo delle potenzialità enormi, anche sotto il profilo dell'agroalimentare. Ci sono degli alpeggi che potrebbero, se organizzati in una maniera, come dire, più moderna, uscire sul mercato con dei prodotti unici. Dobbiamo uscire da questa logica del luma sempre fai parei. Chiedere questo sforzo di modernizzazione anche a chi forse abusa del fatto che, continuando a fare le cose in un certo modo, si mantengano determinate situazioni positive. Mi fermo qua. Grazie. Il sindaco di Ulx, Paolo De Marchis. Buonasera a tutti e grazie di questo invito. Grazie a Cipra che da due anni ha scelto l'Alta Valle di Susa per fare dei ragionamenti insieme a noi su cosa significa essere montagna, vivere la montagna. Un grande ringraziamento alla compagnia di San Paolo per tutte le opportunità che in questi anni ha dato ai nostri territori. Io sono sicuro, e mi permetto di fare una battuta, che il prossimo bando non sarà Torino e le Alpi, ma le Alpi e Torino, perché invertendo vuol dire che c'è già un'idea che non solo la montagna, gli amministratori devono scendere verso la città, ma che la città deve salire verso le nostre montagne, verso le montagne, anche con approcci differenti rispetto a quella che molte volte è la lettura dell'uso comune, del turismo e basta. Io che cosa vedo in questa mostra? Ma innanzitutto vedo che vedersi attraverso gli occhi degli altri ci permette di conoscere meglio noi stessi e quindi io attraverso occhi di altre persone, di professionisti della fotografia, attraverso scatti, ho visto che c'è un modo di vedermi che è completamente differente, o meglio che gli altri mi percepiscono in un certo modo, che è sicuramente il modo della multilettura di un territorio, che ce lo diciamo da anni, è il modo della complessità di un territorio, ma è sicuramente un modo per provocare in noi emozioni e quando si provocano emozioni si prova sicuramente a crescere insieme e a fare meglio. Sicuramente voi conoscerete Ulx, Ulx è un po' particolare perché ha una stazione internazionale che stanno facendo di tutto per chiudere e fare un ramo secco da Bussoleno fino a Bardonecchia, quindi ha una stazione internazionale sulla tratta Milano-Parigi, ha due uscite dell'autostrada, è un paese di servizi ed è un paese che all'interno del suo territorio di 99 chilometri quadrati ha degli impianti di Bardonecchia-Schi e degli impianti della Via Lattea, quindi c'è di tutto di più e quindi il tema della complessità lo viviamo nella quotidianità, quindi turismo da una parte ma proviamo a declinare questa parola servizi perché non dobbiamo avere paura di dire che è facile da certi tavoli dire bisogna ripopolare la montagna, bisogna fare questo per la montagna quando poi si fa di tutto per fare dei ragionamenti solo sui numeri e non sui territori. Proviamo a fare dei ragionamenti non solo sui numeri, l'Alta Valle in totale parliamo di circa 12.000 abitanti, è sicuramente meno competitiva rispetto alla media e alla bassa valle, è sicuramente meno competitiva dal punto di vista numerico, non voglio dire questa parola brutta elettorale perché è bruttissima, è sicuramente meno competitiva, ma la montagna è territorio, persone, servizi, la montagna è laboratorio di idee. Io credo di poter portare un esempio molto importante che mi vede coinvolto perché io faccio un insegnante in una scuola secondaria superiore che si trova a Ulx, Ulx ha 3.000 abitanti, ma ha una scuola dove ci sono 1.200 studenti che vengono da tutta la valle di Susa. Allora questo è un esempio di una lettura differente del territorio, è un esempio di una visione che è stata data a un territorio dove anche la cultura, il crescere insieme, il turismo, lo sport fanno in modo che la montagna abbia valenze differenti. Il laboratorio di Cipra di questi due anni ha un po' affermato queste cose, abbiamo visto esperienze molto interessanti, declinate a livello di agricoltura, giovani imprenditori che provano a fare impresa con molta fatica. Quest'anno, nel 2016, il terzo laboratorio sarà itinerante ma ci sarà un momento molto importante a Ulx in occasione di Boster che è la fiera outdoor più importante del nord-ovest sulla filiera del legno dove si proveranno a fare dei ragionamenti su una montagna che vuole essere non solo bosco ma anche territorio. Cos'è che ci manca? Forse da queste fotografie, forse da quello che ci stiamo dicendo ci manca non una visione della complessità ma una strategia comune che dia una risposta. Io credo che la politica debba provare insieme a dare delle risposte e non possono darle i singoli sindaci. Io credo che queste fotografie potranno essere uno spunto di riflessione forte per tutti gli amministratori per provare insieme a declinare la montagna e le montagne in un modo differente. Grazie. Grazie De Marchis. Ricollegandomi alla battuta che ha fatto a me viene in mente sempre una vignetta che avevo visto tanti anni fa su Repubblico, ogni tanto la cito e c'è una frana e la didascalia dice andate alla montagna prima che la montagna venga a voi. Però le gente insomma di pianura, dopo lo chiederò, non sempre sono toccate direttamente. Comunque ascoltiamo adesso Marcella Morandini, segretario generale Fondazione Dolomiti Unesco, che ha uno sguardo ovviamente un pochino più distante dall'Alta Valle di Susa, siamo curiosi di sapere qual è. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie veramente per l'invito, per questa occasione di confronto estremamente importante anche per noi. Ci sentiamo così lontani eppure siamo tutto sommato vicini ma soprattutto molto simili. Condividiamo non solo una situazione di montagna e soprattutto di abitare la montagna, ma condividiamo chiaramente oltre a uno stesso Stato nazionale l'appartenenza al lato sud dell'arco alpino che ricordiamo insomma unire otto stati diversi all'interno del continente europeo e la maggior parte, questo in Italia ce lo dimentichiamo sempre, degli oltre 14 milioni di persone che abitano all'interno del territorio della Convenzione delle Alpi, 6 milioni sono italiani eppure la montagna in Italia scompare e si sente appunto quando casca qualche frana, quando qualche valanga travolge un sciatore che con la GoPro voleva assolutamente fare il video dell'anno, però queste diciamo le dinamiche sottese all'abitare montagna, volerci restare a fare economia e aver diritto a dei servizi che naturalmente non possono essere basati su un criterio meramente numerico, di questo non si parla mai perché non è interessante e perché non fa notizia. La situazione che viviamo noi nell'arco alpino orientale, soprattutto all'interno delle cinque province che condividono questo bene Unesco dal 2009, le Dolomiti sapete sono iscritte come bene seriale all'interno del patrimonio dell'umanità e anche questa è una sfida nella sfida perché non esiste all'interno degli oltre mille siti del patrimonio mondiale un sito così complicato come quello delle Dolomiti, ci piacciono sempre le sfide perché è seriale, cosa vuol dire? Ci sono nove gruppi montuosi che dalle Dolomiti friulane, quindi siamo all'interno delle province di Udine e Pordenone, fino alle Dolomiti di Brenta, provincia di Trento, quasi al confine con la Lombardia, 142 mila ettari condivisi appunto da cinque province così diverse che sono quasi stati diversi perché immaginate le province autonome di Trento e Bolzano, la provincia di Belluno, le province di Udine e Pordenone all'interno di una regione a stato speciale non sono mai state abituate a collaborare. Immaginate che nel momento della candidatura si sono accorti che era impossibile fare una carta tecnica del bene, quindi dalle Dolomiti di Brenta fino ai Dolomiti friulane, perché le carte tecniche del Friuli per esempio e del Veneto non coincidono, perché il Veneto fa i fiumi con dei poligoni, il Friuli fa con delle linee e quindi è impossibile far collimare queste carte. Quindi vedete quanto bisogno c'è di confronto, di costruzione, di dialogo soprattutto, un dialogo orizzontale che la montagna, soprattutto in Italia, ha completamente perso perché la montagna si relaziona sempre in verticale, quel famoso piano inclinato di cui parlava grande all'inizio non è solo l'occasione per fare economia e quindi per fare mountain bike, per vendere servizi, lo sci eccetera, ma è stato ed è tuttora quello che fa scivolare a valle gli abitanti e poi le frane. Se non ci sono politiche strutturali, sistemiche per mantenere le persone abitare in montagna, faremo poi fatica a parlarne perché quando non ci sarà più nessuno, anche nel nostro caso, anche avere il riconoscimento internazionale come iscrizione a un bene UNESCO, capite voi, che non porta a nessuna parte, anche perché mangia se stesso in quanto il paesaggio, l'estetica paesaggistica che è uno dei criteri alla base del riconoscimento nel momento in cui il territorio non è più curato, nel momento in cui i prati non sono più sfalciati e il bosco arriva a mangiarsi qualsiasi spazio, ad invadere addirittura gli spazi abitati, non è più interessante neanche dal punto di vista turistico. Noi siamo in un momento importante, in questo momento stiamo definendo la strategia complessiva di gestione del sito e abbiamo fatto tutta una serie di incontri di partecipazione territoriale in cui anche Cipra ci ha dato una grossa mano come sostenitore della fondazione che è un po' la piattaforma, se vogliamo, in maniera semplice che permette il dialogo tra le amministrazioni, tra le comunità e tra chi abita questi territori. La cosa che emerge in maniera chiarissima è che c'è assoluto bisogno di politiche per far rimanere le persone ad abitare in montagna, ma farlo in maniera moderna recuperando saperi, tradizioni, uscendo anche nel nostro caso dalla monocultura dello sci, guardando oltre in questo senso i parallelismi e soprattutto i punti di contatto anche con quello che è stato fatto e che Federica appunto mi ha raccontato sono tantissimi e credo che sarebbe fondamentale ricostruire e soprattutto tessere queste relazioni anche a medio raggio tra le Alpi occidentali e le Alpi orientali per far pesare la montagna e soprattutto per permettere che accadano le cose non semplicemente perché ce le aspettiamo ma perché possiamo farle succedere. Grazie. Grazie. Salutiamo Luca Remmert e lo ringraziamo che deve andare. Grazie. Mi è venuta una curiosità, poi intanto se qualcuno ha delle domande può già cominciare a farle direi, così si crea un po' di dinamismo. Mi è venuta in mente una cosa ed è legata alla domanda che poi vorrei fare magari a tutti quanti i relatori, diciamo così. Il sottotitolo è Prove di decodificazione dell'Alta Valle di Susa contemporanea. Allora ci vuole un decoder. No, lasciamo perdere il discorso dei ripetitori, mi vengono in mente cose concrete, però per decodificare l'Alta Valle di Susa e più in generale la montagna ci si può chiedere, in linea con i discorsi che abbiamo fatto, che cosa vogliono, che cosa arriva dalla gente di montagna, che cosa chiedono e che cosa chiedono i cittadini. Questo anche i sindaci naturalmente possono avere il polso della situazione. Per cui questo lo vorrei chiedere a tutti quanti, anche perché, e finisco parlando di Ostana, è un territorio che io amo molto, che frequento, ho degli amici, abbiamo un film molto bello, che lo conoscerete, è uscito tanti anni fa, è che il vento fa il suo giro, che presenta una montagna senza misericordia, cioè ce n'è per tutti, sia per gli abitanti, sia per i turisti. Che cosa chiede la gente di pianura, che cosa chiede la gente di montagna? Chi comincia? Rifacciamo il giro da Federica Corrado. Innanzitutto devo dire che in questi due anni di presidenza Cipra, viaggiando un po' tutto l'arco alpino, mi sono resa conto che prima, c'è una cosa molto bella, che prima di chiedere la gente di montagna racconta. E secondo me questo è un insegnamento generale per tutti. Racconta e lo fa ovviamente in parte con nostalgia, ma appunto le motivazioni per cui siamo qui a parlare della montagna contemporanea è perché in questo racconto c'è voglia di nuovo, c'è voglia di sperimentare, c'è voglia di novità. E' chiaro che la vita in montagna, abbiamo detto adesso, c'è bisogno di restare in montagna, c'è bisogno di servizio, diceva giustamente il sindaco De Marchis, non è tutto rose e fiori. Ci sono degli aspetti davvero molto difficili, degli aspetti molto complicati. I servizi sicuramente sono uno di questi. Vivere in montagna appunto non è facile, parliamo sempre tanto di ritorno in montagna. Secondo me ormai è diventato di nuovo un po' come tante cose, anche questo è un life motive. C'è un pericolo, il pericolo è che diventi di nuovo una bella storia che però non è adeguatamente supportata. Perché il ritorno in montagna chiede appunto tutta una serie di servizi. Quindi più che una richiesta di chi vi abita, una richiesta come dire indotta, automatica, cioè se noi vogliamo in qualche modo, pensiamo che la montagna possa essere attrattiva e giustamente pensiamo che la montagna sia da presidiare, allora in qualche modo siamo noi, ancora prima che gli abitanti chiedano a dover offrire dei servizi. È chiaro che se non offriamo servizi in termini di servizi scolastici, servizi sanitari, tutto quello che può in qualche modo consentire un livello medio, non stiamo parlando di alta qualità di vita, ma almeno un livello medio di vivibilità dei territori montani, non possiamo poi parlare di ritorno alla montagna. Secondo me, da questo punto di vista, nelle politiche italiane c'è davvero molto da fare. C'è molto da fare, io ho partecipato qualche anno fa a un progetto europeo, Padima, un progetto Interreg 4C di scambio di buone pratiche, che ha visto la partecipazione di diversi territori montani, dal massiccio francese, ai territori montani della Norvegia, alle aree montuose della Spagna. Devo dire, e questa è un po' una nota dolente, che noi sul versante delle politiche di attrattività dei territori siamo un po' indietro. C'è molto, molto spontaneismo. Quindi, cosa chiede? Secondo me è una domanda che già chi va a vivere in montagna rafforza rispetto a quella che è la domanda di chi già vi risiede. Quindi, soprattutto un po' questo è il discorso, cercare di capire che anzitutto dobbiamo noi attrezzare questi territori affinché diventino davvero vivibili. Che cosa chiede? Una cosa sì, almeno nei miei tanti percorsi c'è un aspetto importante. che in parte la fiducia, che non è un valore commerciabile, e poi ovviamente il sostegno. I giovani che oggi cercano di sperimentare attività innovative in montagna, non hanno tutto questo sostegno. Ci sono anche delle situazioni virtuose, penso al MIP, mettersi in proprio della provincia di Torino, che ha lavorato molto bene. È un buonissimo esempio. Però è difficile oggi per i giovani aprire delle attività in montagna. Questo ce lo dobbiamo dire. Ecco perché è importante costruire, come dire, delle visioni dentro le quali riconoscerci. Perché attraverso quelle possiamo davvero costruire delle politiche efficaci. Politiche che mettano al centro quello di cui c'è realmente bisogno. E ripeto, oggi i giovani fanno fatica, devono mettere del loro, le loro famiglie devono esporsi finanziariamente per avviare delle attività. Quindi o c'è chi per famiglia, per esempio, possedeva già magari terreni, questi sono alcuni esempi di ritorno alla montagna, quindi ritornano a lavorare terreni di famiglia, quindi c'è già, come dire, un background di partenza, oppure oggi si fa fatica. Però i giovani non mollano, questa è una cosa bellissima. Tante aziende agricole che abbiamo sentito costruite e realizzate da giovani imprenditori, giovani agricoltori, non pensiamo a delle figure del montanaro, un po' del passato, parliamo di giovani che sono laureati, sono preparati, decidono di tornare in montagna per costruire delle aziende agricole assolutamente innovative. Ecco, qui mi sembra assolutamente giusta la loro richiesta. Troviamo delle forme di finanziamento per sostenere delle attività che sono quelle su cui poi andiamo a costruire, quei modelli altri, di cui adesso in questa sede, come in tante altre sedi, noi cerchiamo di, in qualche modo, far emergere. Grazie. 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 Grazie, professor De Rossi. Seguo il giro precedente. Stavo pensando che, è abbastanza curioso sentire il sindaco di una realtà importante come come Saus e Dulce, parlare del sindaco Saus e di Cesare, perdone. Parlare di una, parlare della realtà di Ostana come, no, beh, realtà che conosciamo tutti, che con cui anche noi lavoriamo, no. E questo è abbastanza, come dire, in qualche modo paradossale, no, pensare a territori che sono, certo, Saus e di Cesare, non è la, voglio dire, magari bardone, che non è, però, insomma, quello che è stato un territorio e che è un territorio forte come quello dell'Alta Valle di Susa, come dire, avere una sorta di rovesciamento oggi dove realtà che fino a 30-40 anni fa vivevano delle situazioni di assoluta, di totale marginalità, di mancanza di progettualità, come ricorda sempre il sindaco Giacomo Lombardo, quando loro hanno preso, poi, hanno iniziato a fare le cose col comune, eccetera, le amministrazioni precedenti, se qualcuno andava lì per chiedere di fare qualche cosa, anzi, il sindaco mandava via perché questo costituiva più un problema che un'opportunità e via dicendo. Quindi, è tutto un mondo che negli ultimi, sicuramente, 10, 20, 30 anni sta iniziando a cambiare profondamente. È molto difficile rispetto alla domanda che faceva Carlo Grande di dire cosa vogliono, cosa chiedono i montanari, cosa chiedono i cittadini perché poi rischiamo anche qui di entrare dentro allo stereotipo del cittadino che chiede certe cose alla montagna e al montanaro che per sempre per stereotipo si lamenta rispetto alla città e via dicendo. Io trovo che invece il ragionamento che faceva prima il sindaco di Ulss fosse molto interessante quello di partire dal tema esempio dei servizi e qui, secondo me, sta la grande differenza dell'Alta Val di Susa rispetto ad altri territori di valle, nel senso che il suo fatto di essere urbana che non è assolutamente una, sembra quasi questa parola oramai quasi un non complimento, utilizzare per un, invece il fatto di avere questa possibilità di avere scuole, istituti di educazione secondaria e essere serviti dalla ferrovia, essere un centro erogatore di servizi come è il comune di Ulss, la rende esattamente simile a quella montagna che se uno va in giro per la Svizzera o per l'Austria è molto comune che corrisponde alla montagna europea che si trova da qualunque parte anche in Francia ma specialmente appunto in Svizzera e in Austria ovvero sia una montagna dove il tema per riprendere un vecchio motto di Walter Giuliano non è tanto quello dell'urbanizzazione ma il tema dell'urbanità della montagna che è la questione centrale e da questo punto di vista l'Alta Valle di Susa io credo che abbia davvero delle chance costruendo e ho trovato molto convincente anche questo tema della costruzione di una strategia complessiva come tema perché oggi uno dei problemi lo si diceva anche adesso per le Dolomiti è proprio quello di far ragionare questi territori tra di loro insieme perché sappiamo che in Italia il municipalismo e bla 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 e tutta una serie di cose quando credo che la costruzione appunto di una visione di insieme proprio a partire da quella grande possibilità di servizi che oggi ha storicamente l'Alta Valle di Susa rappresenti un punto di partenza straordinario per immaginare delle traiettorie che siano come dire assolutamente contemporanei in linea con quelle che sono appunto le sfide che si hanno davanti io non credo che dobbiamo arrivare al paradosso di dover pensare che l'Alta Valle di Susa si debba trasformare in un luogo di agricoltura di cose via dicendo eccetera dietro c'è una storia noi dimentichiamo sempre che Sestria dato via il sindaco Marini è il luogo che comunque ha inventato la prima stazione integrata di sport invernali in tutte le Alpi cioè c'è una tradizione voglio dire di sperimentazione di laboratorio di questo territorio dell'Alta Valle che è un tema assolutamente fondamentale rispetto ai modi per come ha costruito dei percorsi di modernità e io credo che molte volte bisognerebbe anche ripartire da quella capacità progettuale che nel corso del Novecento c'è stata per questi territori per immaginare dei percorsi certo sostenibili e via dicendo e via dicendo ma che abbiano quella capacità di innovazione che oggi mi sembra rappresenta invece il problema cioè della costruzione di una visione davvero in qualche modo innovativa su come ripensare a questi territori non più per la monocultura sciistica eccetera eccetera ma da un punto di vista di una strategia necessariamente multipla e molteplice che vede un'offerta di servizi di un'agricoltura di una capacità di avere il turismo in un certo modo nella possibilità di avere il tema del paesaggio il tema delle infrastrutture ed è su questo che bisogna costruire io credo un progetto per essere veramente all'altezza di quelle che sono le questioni oggi contemporanee in questi territori grazie Beria d'Argentina cosa chiede la gente di montagna Carlo Grande ci ha parlato di Bonatti dell'autobus chiede che un ragazzo non debba fare due chilometri a piedi un autostopo con l'ape anche d'inverno perché chi gestisce il trasporto provinciale cancella le corse degli autobus d'inverno da una strada provinciale perché potrebbe beneficare parlo di una strada provinciale non di una carrareccia dove ci passa a stento con un trattore questo chiede la gente di montagna chiede di poter ospitare in casa sua dove dignitosamente ci stavano dei figli dei turisti senza dover per forza apprezzare un albergo a dieci stelle questo chiede la gente di montagna che ci siano delle norme chiede che i soldi che paga in tasse rimangano sul territorio e non vadano a finire in un fondo di solidarietà che per me sta per fondo dello sperpero questo chiede la gente di montagna e non ci vuole poi molto per realizzare questi obiettivi si tratta semplicemente di buona volontà io ripeto saremmo ben lieti di poter amministrare quelli che sono i contributi dei nostri cittadini perché sapriamo gestirli bene il nostro consorzio forestale che serve 14 comuni spende tutti i soldi che arrivano da voi da quelli che bagate sulla bolletta dell'acqua potabile in opere di manutenzione del territorio altri territori avanzano milioni e parliamo di Piemonte in regione Piemonte avanzano milioni di questi fondi perché non li spendono non sono capaci a progettare non so cosa ne facciano ma non li spendono chiediamo quegli avanzi per poter intervenire ulteriormente per difendere il nostro territorio perché la montagna non scenda in città grazie De Marchis ma io torno sul tema della strategia comune e della complessità in questo senso mi viene in mente tutta una serie di esempi che viviamo nella quotidianità l'esempio citato dal coordinatore che alle 3.30 o alle 12.45 i ragazzi si alzano prendono e vanno via perché se perdono quel treno restano 5 ore bloccati oppure non ci sono i servizi c'era 15 anni fa più o meno adesso non ricordo perché ecco è ancora oggi è così non è che si è cambiato molto allora io penso a una serie di situazioni una serie di situazioni dove chiaramente ci vorrebbero degli investimenti o che rimanessero le risorse sul territorio sono pienamente d'accordo io per sei mesi ho discusso con Mediaset perché bastava mettere una macchinetta grossa così per far vedere premi un avendo già il ripetitore il centralino nulla da fare perché in montagna non è conveniente è una stupidaggine mi rendo conto cosa volete che sia la Champions League però come dire una stupidaggine ci sono le persone della montagna che non sanno neanche che esiste Rai 4 Rai 5 Rai Movie è una stupidaggine e togliamo ancora anche questa cosa ci sono delle persone che non sanno appunto che se perdono quel pullman non possono andare da una frazione all'altra è una stupidaggine ma anche questa fa il tema della sanità è un tema sul quale stiamo lavorando stiamo lavorando ma è chiaro che se uno taglia i servizi a metà strada che sia l'ospedale di Susa o che sia un'altra cosa e poi come dire o si potenzia l'elisoccorso si potenzia il 118 medicalizzato oppure ci sono quelli che per partorire fanno 5 chilometri e quelli che ne devono fare 90 cioè bisogna provare a dare delle risposte quindi la gente della montagna chiede questo il tema dei giovani è già stato trattato io non ritorno sul tema dei giovani però ci fosse la possibilità di avere una non un luogo comune una buona banda ultra larga io conosco tante famiglie che si fermerebbero a vivere in montagna facendo esperienze di co-working di lavoro a distanza perché qualcuno nell'estate lo ha sperimentato a Ulx ma in realtà in questo momento non ci sono servizi di questo tipo bisogna sempre rincorrere alla compensazione della compensazione della compensazione è un ragionamento che non esiste questo bisogna fare in modo di dare delle risposte alle montagne alle genti che siano di turismo di servizio tutto quello che si vuole tutta la complessità che viene fuori da quelle fotografie un'ultima cosa che voglio dire è collegata a questa esperienza interessante dei giovani sul tema dell'agricoltura del vivere in montagna sono esperienze interessantissime ma c'è una difficoltà che sono filiere molte volte difficilmente sostenibili perché ci sono dei prodotti che purtroppo restano prodotti di nicchia noi abbiamo fatto un lavoro con gli apicoltori del comune di Ulx e dell'alta valle di Susa con i produttori di patate però poi il prodotto non ha la quantità tale da allora vediamo se si riescono a trovare degli strumenti dei mezzi per venire incontro a queste persone io dico sempre che la politica non la politica dei sindaci la politica dovrebbe provare a dare delle risposte in questo senso e noi tutti insieme se avessimo una strategia comune perché molte volte va detto tra di noi non andiamo d'accordo questo va detto cioè la politica che cosa ha fatto ha fatto di tutto per autodistruggerci e concludo c'era una grande comunità montana sono state fuse le comunità montane sono state azzerate le comunità montane ci si è divise delle unioni ne abbiamo fatte di tutte abbiamo perso più tempo a discutere di come ci univamo e ci dividevamo senza pensare ai problemi della gente i problemi della gente che vive in montagna grazie morandini grazie chiaramente le dinamiche sono le stesse anche nella parte orientale io credo che sarebbe bello avere un progetto comune su cui lavorare questo potrebbe essere parlando di servizi un calcolo perché di numeri bisogna parlare però proviamo a ragionare sui numeri in modo serio non semplicemente quanto costa una siringa nel ospedale periferico quanto costa la siringa in città ma ragioniamo a livello complessivo quanto costa mantenere le persone ad abitare in montagna e quindi garantire tutta una serie di servizi essenziali quanto costa invece aggiustare i danni che la manutenzione mancata del territorio crea allora facciamo un ragionamento sistemico su questi punti e possiamo sicuramente dimostrare che è molto più conveniente investire nei servizi per fare in modo che la montagna resti abitata perché è un vantaggio per la collettività nazionale allora se sulla base di numeri sempre comunque bisogna parlare ragioniamo in maniera complessiva perché qui ogni volta ci dimentichiamo una parte del bilancio e quindi fare i conti dimenticando una parte importante di quello di cui si sta parlando è falsificare le carte e quindi nel momento in cui riusciamo a fare un discorso del genere magari a livello complessivo su un'area vasta avremo poi non solo una strategia e una progettualità che possa unire ma anche una voce da far valere anche a livello politico perché chiaramente la frammentazione ci porta solo a fare la fine degli indiani io vedo grande rassegnazione devo dire devo dire questo mi dispiace però bisogna essere realisti girando anche in grazia appunto agli incontri che abbiamo fatto nel corso di quest'anno le persone sono assolutamente rassegnate prevale questo senso di spaesamento di attesa di qualcosa che deve accadere che non accade mi sembra di leggere ogni volta il deserto dei tartari e quelli che ci provano e sono i giovani che tornano eccetera se poi non riescono perché le difficoltà dei costi dei servizi che mancano delle mancanze di sostegno alle attività alle start up eccetera se questo poi porta ad un ulteriore fallimento abbiamo perso la partita per sempre perché abbiamo spento anche questa ultima fiammella ed è per questo che le buone pratiche sì però non bastano ci vuole un ragionamento strategico e di sistema perché altrimenti ci facciamo solo del male ulteriormente faremo un ulteriore passo verso il franare a valle della montagna grazie grazie siamo quasi insomma in zona cesarini ma abbiamo ancora qualche minuto per domande interventi ulteriori prego la signora ha alzato la mano per prima ma fate voi grazie grazie Elena Ala come dice il mio nome la radice di montagna in effetti i bisnonni arrivavano da Ala si sono trasferiti a Cantoira sono scesi a Torino ed oltre quindi per dire come tante volte anche nel nostro territorio urbano ci sono delle riminiscenze più alte un grazie grosso per l'opportunità che ci avete dato oggi per innescare credo una nuova marcia in questo che è una dinamica città montagna ma io la vedo molto molto unita e grazie anche perché avete aperto delle possibilità di dialogo che continuano al di là di questo mentre parlavate ho apprezzato i vostri interventi perché sono tutti diversi come voi però hanno una radice comune che è l'attenzione al territorio e alla società dicevo mentre parlavate mi sono rimaste due curiosità grandi una la vostra mostra che vedremo perché ci avete veramente incuriositi quindi avete già raggiunto il primo passo la vostra mostra si basa su una conoscenza di sfaccettature reali però per arrivare a dare quelle risposte che in parte sono state avviate forse voi avete analizzato dei dati che qui non ci avete dato ovviamente cosa vuol dire voi avete conosciuto dei giovani per esempio che sono saliti in montagna sapete che è un momento critico per loro e per la conseguenza che il loro lavoro ha però voi riuscireste a quantificare queste realtà in modo che non siano degli aspetti isolati la seconda domanda è ritenete che sia molto importante prima di arrivare all'oggi riconsiderare quali erano i segreti e le tecniche per quanto riusciamo ad averle della gente che ha vissuto e che vive in montagna tante volte noi diciamo la sapienza dei nostri dei vecchi dietro quella sapienza non c'era soltanto la saggezza improvvisa ma c'era una sperimentazione giorno per giorno allora a me pare che nel microcosmo che voi avete prospettato ci siano ancora degli strati che vanno approfonditi grazie sì le risposte magari le diamo le diamo dopo e quindi adesso prego io sono Luigi Casanova vicepresidente di Cipra e vengo dalle Dolomiti il condivido quanto è stato espresso dai sindaci la loro concretezza e i bisogni reali delle genti di montagna identici appunto da una parte all'altra delle Alpi però va anche detto qualcosa di più sul percorso che ha fatto la fondazione Dolomiti Unesco perché la fondazione Dolomiti Unesco con quello che ha creato in Dolomiti è stato un vero e proprio laboratorio in grande su cinque amministrazioni molto diverse con ballate socio-economiche straordinariamente diverse ed è riuscito a costruire un percorso partecipativo che può essere un punto di partenza per tutti i territori dell'arco alpino la dottoressa Morandini è stata troppo modesta nell'illustrare il lavoro che ha prodotto insieme ai suoi collaboratori comunque questo è un primo passaggio in quegli undici incontri costruiti da fondazione non è emerso solo quanto hanno detto i sindaci ha detto il tavolo dei relatori è emerso da parte delle genti di montagna un grande bisogno di formazione cioè una formazione che ci aiuterebbe a legare il mondo di noi genti delle montagne con il mondo delle città allora se noi dalle montagne abbiamo bisogno di formazione dalle università senza dubbio le città hanno bisogno di formazione da parte di noi montanari quindi abbiamo bisogno di costruire queste relazioni continue fra le città metropolitane e le vallate questo in Dolomiti questo qui da voi questo nelle Alpi centrali insomma questa è anche un'altra riflessione che può aiutarci a portare la gente delle città ad avere più rispetto di chi come noi vive nelle montagne grazie grazie prego buonasera Dorbiano sindaco del comune di Venaus che fa parte anche di questo progetto voglio citare due termini uno evoluzione e l'altro emancipazione nel senso che Venaus al contrario della parte più alta e più evoluta se vogliamo anche dal punto di vista turistico ha vissuto e vive una realtà completamente diversa l'abbiamo detto è stato detto sono molte le sfaccettature della Valle di Susa della montagna in generale ecco mi riconosco special modo anche nell'ultimo intervento quando si parla di crescita della montagna di evoluzione della montagna di emancipazione della montagna anche io credo che sia necessaria una riflessione legata al fatto che la montagna non deve diventare urbana ma deve diventare una ricchezza urbana che è diverso è diverso perché l'approccio dalla metropoli piuttosto che dalla cultura metropolitana rispetto alla cultura montana spesso è un approccio vorrei dire a senso unico e crea degli scompensi crea comunque sia dei problemi noi da poco stiamo cercando di emanciparci rispetto a una sorta di isolamento anche che abbiamo vissuto per molti anni e guardiamo con molto interesse alle attività e qui sono anche io a ringraziare sia la compagnia San Paolo che Cipra per l'attenzione ma soprattutto per le risorse non solo economiche ma soprattutto anche il lavoro che stanno svolgendo per favorire questa nostra crescita questo nostro sviluppo che non deve essere solo uno sviluppo inteso come speculazione economica come è stato fatto in passato sicuramente siamo molto critici rispetto a questo tipo di approccio ma sicuramente noi cerchiamo di stare attenti alle proposte che vengono fatte in termini anche di progettualità ma non siamo supini stiamo anche noi con la nostra progettualità cercando di inserirci in un momento in cui si tratta di capire quale sarà lo sviluppo futuro non solo per quanto riguarda la montagna ma per l'intero nostro paese e credo per tutto l'occidente vorrei anche dire in questo credo che abbiamo delle carte da giocare e in questo noi ci siamo e vorremmo appunto avere un doppio senso non un senso unico nel proporre nel progettare e nel fare in questo mi associo in primis e termino per quanto riguarda le priorità credo che siano i servizi si è parlato di banda larga ma non voglio fare l'elenco il pianisteo neanche sono cose note sicuramente però è necessario che chi si approccia alla montagna abbia ben chiaro che ci sono delle priorità chiamate servizi che sono fondamentali per lo sviluppo insomma faccio solo una battuta qualcuno dovrebbe andare alla Leopoldo in questo mondo Leopoldo e chiedere anche in mezzo a tutta un'altra serie di stanze che la classe dirigente si occupi delle terre alte prego io sono Arnaldo Reviglio sono un consigliere comunale di Avigliana per diversi anni sono stato anche assessore all'ambiente e faccio parte del gruppo FAI Val di Susa che è nato pochi mesi fa e ricopro all'interno l'incarico di delegato per ambiente e paesaggio abbiamo parlato e condivido delle tantissime cose che sono state dette ho dato uno sguardo prima all'inizio prima di iniziare alla mostra che sicuramente è da rivedere con più calma ma gli spunti ci sono sicuramente perché specialmente riguardo anche al paesaggio molte cose potrebbero migliorare per essere più appetibili i discorsi sarebbero tanti ovviamente qui lo spazio è poco però riguardo alle borgate montane al recupero alle tante cose però ci diciamo sono tutte cose valide e condivisibili che appunto sono state citate però secondo me qui mancano gli interlocutori principali a cui queste domande noi tutti gli interventi di persone non solo sensibili ma di persone che ci terrebbero ma non hanno non ci sono i mezzi in quanto amministratore comunale ma sicuramente è una cosa comune abbiamo tutti i comuni che hanno sempre in particolare negli ultimi anni sempre dei tagli sempre più cospicui e pertanto la domanda dovrebbe essere fatta altrove cioè si vuole valorizzare la montagna e penso che sia anche facile mettere in campo tutta una serie di azioni perché a mio modo di vedere essendo appunto come amministratore come assessore all'ambiente ho partecipato a delle cose sulla mobilità sostenibile organizzate dall'allora provincia di Torino e siamo stati con giornate di studio all'estero vuoi Chambéry vuoi Friburgo vuoi Zurigo questo nel corso degli anni ma e questo vale anche per comuni più piccoli basterebbe solo copiare parliamo tanto dell'Europa l'Europa ma magari in questi piccoli centri copiare e portarle in Italia l'esempio calzante iniziale poi ripreso dal professore De Marchis di Carlo Grande riguardo ai trasporti a ULS che dovevano essere aspettati per ore eccetera in altre nazioni al di là delle Alpi questo non succede mi piace Ruka Remmer mi dispiace che non ci sia ha parlato delle piccole infrastrutture che ci sono attorno mi piace anche andare in bicicletta qualche volta si va in giro nel periodo di ferie magari si dedica qualche giorno attorno al lago di Costanza c'era la pista ciclabile la strada e la ferrovia e sulla ferrovia vedi dei piccoli treni due o tre carrozze che passano ogni mezz'ora e collegano tutti i comuni a Friburgo anzi nella periferia di Friburgo hanno recuperato tutte le vecchie stazioni ferroviarie c'è un piccolo luogo così punto di accoglienza turistico un piccolo supermercato cosa che mi fa piacere che il ministro Franceschini abbia detto che recuperiamo le case cantoniere ma vorrei poi che le cose vengano tradotte noi qua purtroppo scusate se sono un po' polemico sicuramente nei confronti dei presenti ma ricordo solo che forse tanti lo sanno ma abbiamo un personaggio che non è nelle retrovie ma ora ai livelli più alti in Italia che solo due anni fa quando era sindaco di Firenze diceva che il TAV non è un'opera solo dannosa ma inutile io non so come mai ha cambiato idea chi è che gli ha fatto cambiare idea mi dispiace che non ci sia Luca Reimer perché forse la compagnia di San Paolo ha più voce in capitolo riguardo a questo l'Alta Valle io soffro quando sento parlare di questa grandissima oltretutto rovinerà tutto il paesaggio della zona di Susa della stazione internazionale quando abbiamo già due stazioni a Ulse e a Bardonecchia che servono il territorio la gente andrà poi da altre parti perché forse non ci sarà poi più la possibilità cioè è tutto un insieme di piccole cose che secondo me bisognerebbe fare e magari dovremmo trovarci anzi noi come fai con la presidente Marilena Galli ci siamo anche parlati in questi pochi incontri quando ci siamo già trovati e sicuramente nell'anno nel 2016 manderemo una lettera a tutti voi per continuare questo e ovviamente con Cipra e con tante altre associazioni potremo vedo qua Lavanda Bonardo di Lega Ambiente ma parlo anche del CAI eccetera penso che ci sono tantissime altre associazioni che su questo tema sono sensibili sensibilissimi forse è stato un intervento dove ho cercato di dire tante cose ma ritengo che la volontà la rassegnazione la rassegnazione secondo me a mio motivo non deve tanto esserci cito un esempio proprio delle Dolomiti ho frequentato anche un po' ora non più tanto negli ultimi anni ma la differenza cioè almeno la cosa che ho notato perché sono stato in tutte le regioni e le province che ha citato la signora Morandini ma certo la provincia di Trento e di Bolzano hanno tutto un altro sistema anche di accoglienza di cose forse perché ci sono più fondi ma queste cose non possono esserci anche per il parco delle Dolomiti Bellunesi oppure per la Carnia o che ne so anche non fa parte del sistema Unesco ma anche in provincia di Sondrio cioè verso l'attenzione alla montagna cioè l'interlocutore come dicevo prima forse qua manca ma bisognerebbe proprio che tutti noi per la nostra realtà della Val di Susa ma sicuramente da tutte le altre parti riuscire non so come sia possibile ma una maggiore attenzione ai territori e non come diceva qualcuno prima solo cioè un discorso così politico semplice ma un'attenzione ecco forse era De Marchis che lo diceva niente scusate ma penso che siano discorsi che sicuramente non possono essere conclusi in questo breve periodo ma possono essere ripresi e quanto Cipra ha fatto in questi due anni è già stato più che positivo e sicuramente bisogna continuare su questa strada grazie allora mi sembra che non ci sia più tempo se non un rapido giro per rispondere alle domande della signora appunto in modo più stringato possibile lei l'aveva sì prego le sceglierei una che sta molto cuore a me e al sindaco Paolo De Marchis che è il tema della formazione la signora giustamente ha tirato fuori un tema che per noi è un po' da tempo un progetto una grande idea nel cassetto nel senso che noi crediamo molto nel fatto che il concetto la categoria concettuale montagna possa essere abbinata alla categoria concettuale ricerca ora non si capisce perché nelle Alpi Occidentali noi non possiamo visto che si chiedono progetti concreti non possiamo concretizzare davvero questo cioè perché non si può fare appunto giustamente come diceva la signora alta formazione in montagna quando può esserci questo perché c'è un'alta formazione che è legata ad aspetti specificatamente montani mi permetto di dire ancora specificatamente alpini e quindi ci sono dei luoghi che potrebbero essere davvero delle location di eccellenza per il sapere universitario o comunque per il sapere di alto livello no? in Ulx avevamo pensato sicuramente no? con il bacino che c'è quindi lascio a te continuare il nostro sogno no no io io non voglio sognare voglio essere concreto se qualcuno vuole darci una mano perché poi come dire nessuno qui vuole veicolare messaggi negativi di depressione anzi io dico solo che per fare gli amministratori di piccoli comuni ci vuole solo una bella dose di incoscienza e tanto entusiasmo noi abbiamo la dose di incoscienza e l'entusiasmo il sogno nel cassetto c'è relativamente a questo progetto speriamo prima o poi di fare in modo che l'Alta Val di Susa chiaramente nel bacino culturale che può mettere a disposizione possa avere una scuola di alta formazione do un'altra piccola risposta per quanto riguarda il comune di Ulx noi abbiamo avuto 4-5 esperienze perché mi si chiedeva avete dei dati sul comune di Ulx abbiamo 4-5 esperienze di gruppi di giovani o di singoli giovani che chi ha preso le caprette è andato a vivere in una guerra e faceva il latte poi chi ha rivitalizzato una zona di un lago dove all'italiana la buca è del comune di Ulx l'acqua è della provincia di Torino la montagna è del parco cioè dove c'è una complessità di gestione altri le patate altri il miele tutti si fermano di fronte al fatto che nel momento in cui devi veicolare il prodotto in un certo modo in questo momento le normative ti uccidono il collega Paolo De Marches ha parlato di sogno nel cassetto allora io anche dico il mio sogno nel cassetto è quello di fare un caseffiso comunale di avere le risorse per fare un caseffiso comunale dove veicolare il latte che viene raccolto negli alpeggi della Valle Argentera della Valle di Tures di Sestrier creando una una massa critica sufficiente per poter arrivare a un prodotto che possa essere effettivamente venduto sul mercato un mercato che oggi riconosce già la qualità del prodotto ma non ha sufficienza sentivo oggi per radio che in Cina stanno comprando le bottigliette con l'aria canadese perché dato che la loro aria è inquinata ogni tanto si stappano una bottiglietta d'aria canadese e quindi potremmo pensarci anche noi a fare un'operazione analoga avete parlato di evoluzione e di capacità di cambiare lo diceva la signora Saudi di Cesana per secoli è stata bastonata dal delfino di Francia dal duca di Savoia che razziava le bestie che stuprava le mogli che prendeva i giovani per farli combattere eppure nel 1850 a Saudi di Cesana c'erano 1500 cittadini poi il delfino di Francia non c'era più il duca di Savoia non c'era più adesso siamo a 250 allora dobbiamo chiedercelo come mai perché evidentemente c'erano delle condizioni migliori da altre parti adesso per la verità la musica sta un po' cambiando credo che la città stia guardando dalla montagna come un'isola felice e non solo dal punto di vista della qualità della vita in senso ma anche dal punto di vista dei quattrini ci sono le condizioni per creare delle aziende multifunzione che possano reggersi basate anche sull'agricoltura e non solo evolviamo anche il sistema nel senso di creiamo veramente delle norme specifiche che possano consentire la sostenibilità economica di queste imprese grazie allora se nessuno vuole aggiungere altro io vi ringrazio vi auguro buona serata e visitate la mostra naturalmente scusate solo un momento prima di iniziare la vostra visita alla mostra vorrei chiamare soltanto qui sul palco i tre fotografi Laura Cantarella Antonio Lagrotta e Simone Perolari che insomma sono gli autori degli scatti che saranno con voi nella sala espositiva e quindi potrete avvicinarli per chiedere qualsiasi dubbio domanda curiosità insomma grazie a tutti grazie grazie